I belli hanno più possibilità. È così che funziona. Kyle è uno di quei liceali che pensano di essere un dono di Dio. Dovreste votare per me solo perché sono ricco, popolare e bello? Ma certo! Non cambierà mai. A meno che non sia qualcosa. O qualcuno. A cambiarlo. Hai un anno per trovare qualcuno che ti ami? O resterai così per sempre? No. Chi sei? Mary Poppins. Benvenuto all'inferno. Ti prego, fammi tornare com'ero. Ho imparato la lezione. Non hai imparato niente. Trova qualcuno che ti guardi col cuore. È ripugnante. Ho visto di peggio. Che dice la gente quando ti vede? Non mi vede. Non mi faccio vedere. Era più dolce di quanto volesse far credere. Usciresti con me. Mi serve più tempo. Ce la posso fare se ho più tempo. Non posso, spiacente. Mi sembra di conoscerti da sempre. Tu sei l'uomo più bello che abbia conosciuto in vita mia. No. Me serve.